Salve a tutti ragazzi, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video e effettivamente è stato un 2018 incredibile ragazzi. Sul mercato azionario americano continuano gli indici a rompere i massimi storici di mese in mese e sono mesi che i giornali, i media cercano di fare terrorismo psicologico dicendo adesso crollerà tutto, ci sarà un crash, questo è il mese in cui gli indici smetteranno di salire ci sarà un crash sullo stock market, nel 2018 ci sarà una crisi che sarà comparabile a quella del 2008 ragazzi non sto dicendo che non può essere vero, che non può accadere il bello e il brutto dei mercati finanziari è che tutto può accadere ed è vero tutto ed il contrario di tutto fatto sta che, come dico sempre, il lavoro del trader non è quello di seguire qualche analista esperto o i titoloni dei media sui giornali e cercare di basarsi su quelle informazioni come dico sempre, i giornalisti che scrivono sulle testate giornalistiche di finanza la stragrande maggioranza delle volte non sono nemmeno dei trader non hanno nessun portafoglio, al massimo magari hanno qualcosa di azionario ma non sono trader professionisti, quindi cercate sempre di farvi una vostra idea, una vostra opinione e come dico sempre, alla fine è il grafico che è all'ultima parola è il grafico che ci dice o ci prepara ad un crash e quello che stanno dicendo adesso i grafici è che il prezzo non vuole smettere di scendere perché? Che cosa sta succedendo adesso? guardate, questo siamo sul Nasdaq il Nasdaq dopo questo, dopo aver creato questo, vedete qua, questo doppio massimo scusate, questo doppio minimo, c'è stato quindi un crash questo era il crash di febbraio che sicuramente vi ricorderete tra l'altro per quanto mi riguarda, se andare a vedervi video di febbraio è stato un periodo fantastico che ho cavalcato alla grande con le opzioni poi nuovo massimo creato dal Nasdaq il Nasdaq è l'indice delle aziende maggior quotate nel settore tecnologico il prezzo è andato a reinsistere su questi valori qua, lo vedete eccolo qui dopodiché enorme impulso rialzista, sono stati creati nuovi massimi ritracciamento, impulso rialzista, ritracciamento, impulso rialzista, nuovi massimi ragazzi, da inizio 2018 per una, due, tre, quattro, cinque volte il prezzo in sette mesi, otto mesi ha creato sempre nuovi massimi quindi, vedete, i media possono dire quello che vogliono possono scrivere titoli di giornale altisonanti possono spaventare o possono dare confidenza ma alla fine è il grafico che parla perché il grafico è la rappresentazione visuale di quello che stanno facendo milioni di investitori nel mondo questa è una cosa che dovete assolutamente capire non bene ma benissimo e che altro? questo, voi potreste dire, ok, sta andando molto bene quindi la situazione sul mercato azionario americano sul settore tecnologico, vi faccio vedere il RAS il RASL 2000 nuovi massimi storici per il RASL 2000 eccoli qua vedete, qui c'è stato un periodo, questo triangolo simmetrico rotto proprio qualche sessione fa, qualche giorno fa e vedete comunque anche qua i minimi di febbraio che non sono stati più ritoccati vedete che il prezzo non ha fatto altro che salire su questa struttura dinamica molto molto accentuata tra l'altro e andiamo a vedere abbiamo visto il RASL andiamo a vedere SPY l'S&P 500 eccolo qui nuovi massimi anche per l'S&P 500 vedete che lo SPY è l'ETF dell'S&P 500 ragazzi vedete che anche l'S&P 500 che cosa ha fatto? ha creato i minimi di febbraio sui quali è andata ad insistere ad aprile e poi crescita il grafico se guardate bene è un po' più movimentato degli altri indici quindi vuol dire che questo settore ha sofferto di più vedete si è creato questo triangolo simmetrico che è stato rotto qui proprio ai due terzi come vuole il diciamo da manuale la rottura a due terzi del triangolo da manuale e quindi gli indici stanno andando molto bene il settore del resto lo stock market sta andando ancora bene ci sarà una flessione? sicuramente ragazzi ci sarà una flessione sicuramente molti dicono che i massimi che stiamo toccando adesso saranno i massimi del 2018 ok non c'è problema ci sarà una flessione e come trader noi cavalcheremo la flessione ma perché fasciarci la testa perché qualcuno dei giornalisti o degli analisti stanno dicendo che ci sarà il crash pari a quello del 2018 io continuo a tradare tradando quello che vedo sul grafico a me non me ne frega niente di quello che dicono gli analisti non è che gli analisti hanno degli insight che sono più diciamo che possono andare contro a quello che mi sta dicendo il grafico e quindi in questa analisi quello che volevo farvi vedere c'è stata la settimana scorsa la press conference di Powell della Federal Reserve che ci ha tenuto a dire e qui anche secondo me ha voluto creare ha voluto creare un po' di di FAD un po' di paura sui mercati che stiamo nel drawdown maggiore degli ultimi sei mesi per quanto riguarda il dollaro vedete qua l'indice del dollaro effettivamente l'indice del dollaro ha sì avuto un drawdown ma ripeto è una flessione ha perso l'uno nemmeno l'1,5% ma non ci dimentichiamo che il dollaro dopo aver rotto questo test e spalle che ho indicato con questa neckline guardare che cosa ha fatto impulso rialzista ritracciamento impulso rialzista ritracciamento rialzista ritracciamento rialzista ritracciamento si è mosso in maniera estremamente estremamente precisa e con una tendenza con una forte tendenza al rialzo vedete questo canale qui che ha creato su cui è rimbalzato andando verso l'alto e adesso sta flettendo ma sta flettendo come ha avuto una flessione qui ha avuto una flessione qui ha avuto una flessione qui e questa è una flessione di questo impulso per quanto mi riguarda per quello che mi sta dicendo il grafico e per la fotografia che ho di aspetti diciamo così di macroeconomia il dollaro può continuare a salire e non è un consiglio finanziario ovviamente ragazzi è solo una mia riflessione ad alta voce mi potreste chiedere ma il dollaro potrebbe riposizionarsi su queste strutture certo in questa flessione potrebbe arrivare qua prima di continuare a salire ok potrebbe anche andare più sotto staremo a staremo a vedere quello che succederà per ora io non mi spavento perché non grido al crollo al crash perché questo è semplicemente guardate ho tracciato il ritracciamento dei fibonacci su questo impulso su questa gamba qui e stiamo sul livello 61.8 guardate come il prezzo ha rimbalzato bene su questo livello quindi ritracciamento perfetto e in quest'ottica possiamo anche andare a vedere un po' i treasury del settore americano cosa sono i treasury ragazzi allora ce ne sono di tre tipi innanzitutto probabilmente li avrete li avrete visti ne avrete sentito parlare ci sono i tbill i tnote e i tbond i tbill sono i treasury bill i tnote sono i treasury note e i tbond sono i treasury bond allora qual è la differenza che i treasury bill sono titoli a breve termine di solito hanno scadenza dalle 4 alle 52 settimane quindi massimo arrivano ad un anno ok i tnote sono invece a medio-lungo termine arrivano dai 2 anni come scadenze ai 10 anni e hanno una cedula una cedula che ha un tasso di interesse che è fisso ed è viene pagata ogni 6 mesi alla scadenza il tbond sono i titoli invece a lungo termine con scadenze a 30 anni come si stanno comportando questi sul mercato questi ci danno un buon diciamo polso della situazione andiamo a vedere partiamo da US 30 ed eccolo qui il grafico dei tbond a 30 anni siamo sul cfd che cosa si è creato qui ragazzi guardate che cos'è questa una spalla questa è una testa questa è un'altra spalla è un testa e spalla geometricamente non buono ma che viene fuori è di inversione perché viene fuori da un momento di ribasso importante e qui qual è la neckline ve la vado subito a tracciare la neckline così la vedete è anche una buona neckline perché è quasi una neckline orizzontale è leggermente leggermente diagonale e qui siamo vicini ad una possibile rottura vedete è stata formata la seconda spalla il prezzo l'ha sentito è stato sentito e dalla spalla è tornato indietro non ha fatto il breakout staremo ad aspettare il breakout quindi qui potrebbe potremmo vedere il grafico andare verso l'alto ok non ci dimentichiamo che i tassi di interesse dovrebbero essere dovrebbero venire ancora alzati dalla federal reserve riserva americana andiamo a vedere quindi anche i zn che sono i brevi sono i treasury notes sono quelli di più breve periodo andiamo a vedere a 10 anni e qua sul mettiamo un attimo il giornaliero vedete qua anche che bel ribasso che c'è stato anche qui siamo in una situazione di testa e spalle guardate testa scusate spalla e qui abbiamo due belle spalle se qui disegno la neckline eccola qui la nostra neckline quindi anche qua nel neckline leggermente inclinata anche qui abbiamo vedete una situazione di siamo vicini al breakout sarebbe interessante vedere qual è lo spread tra i t-bones e i t-notes magari lo facciamo poi in un in un grafico in un video a parte quindi ragazzi insomma la situazione direi che per il mercato americano azionario è ancora positiva almeno questo è quello che ci stanno dicendo i grafici e noi saremo pronti ad accogliere un crash perché vi dico la verità ragazzi i trader guadagnano i trader quelli bravi guadagnano molto di più dal crash del mercato che da quando il mercato sta andando verso l'alto lo sapete perché per un motivo semplicissimo perché il mercato quando scende scende molto più velocemente cioè molta più volatilità e quindi strategie che riescono ad intercettare i crash o le flessioni i ritracciamenti verso il basso tendono a cavalcare la volatilità e quindi a fare profitti molto molto interessanti quindi che questo crash ben venga del resto i media ne stanno parlando da marzo da marzo aprile che parlano che il mercato azionario americano nel 2018 deve crashare perché sta andando tutto troppo bene e aspettiamolo per quanto mi riguarda l'aspetto a braccia aperte nel frattempo continuo a cavalcare questo rialzo che c'è stato quindi ragazzi il messaggio di questo video non seguite come dei ciechi quello che dice qualcun altro quello che dice una testata giornalistica finanziaria solo perché pensate che quelle persone ne sappiano più di voi perché quelle persone possono anche avere una visione macro economica politica sociale che li possa portare a pensare che il mercato prima o poi scenderà ma alla fine è quello che ci dice il grafico la verità sta sul grafico non sta nei titoli di giornale fatemi sapere come la pensate voi lasciatemi qui sotto un commento ci vediamo prestissimo un like se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per rimanere sempre aggiornati grazie mille per l'attenzione buon trading a tutti ciao